Giorno a tutti ragazzi, qui con me mi trovo con la Robaduccia, abbiamo un giocatore, facciamolo presentare. Ciao, sono Luca. Che ruolo giochi? Cettocampista, offensivo. Non è che vorresti fare un piccolo commento sulla partita? È stata una bella partita, dominata per lunghi tratti, alla fine su un campo tecnico è uscita la qualità dei nostri ragazzi e siamo campioni d'inverno. Qui con noi abbiamo anche, possiamo definirti uno degli Ultras, presidente della squadra, presidente della Robaduccia. Questa è incredibile, ci tenevamo tanto per essere campioni d'inverno per questi due mesi, così festeggiamo e grazie ai ragazzi che si sono sacrificati, però è tutto speciale. Un bilancio sui risultati di quest'inverno in particolare? È stata dura, ci sono delle belle squadre e adesso speriamo che il ritorno, di fare un buon risultato come fino adesso e di vincere questo campionato una volta. Mister, invece un giudizio lei, come vediamo il ritorno? Sarà un ritorno durissimo perché ce la giocheremo con tre o quattro squadre, penso, fino alla fine. Noi siamo una bella squadra, speriamo di lottare fino alla fine. Quest'anno abbiamo avuto anche due o tre innesti nuovi e grazie a tutti è stata una bella andata. Speriamo bene nel ritorno e di vincere il campionato sarebbe bellissimo per noi, una cosa fantastica. Ragazzi non posso che augurarvi in bocca al lupo anche per le prossime partite, intanto io volevo chiamare quelli che sono rimasti qua dentro, tutti dietro, così facciamo gli auguri di Natale. Tutti dietro ragazzi, è un auguri di Natale un po' scazzoso, quindi improvviso. Ci sono, manca uno, manca uno, manca due, ecco vai. Vai ragazzi, gli auguri. Auguri a tutti e sono contento che il nostro mister mangerà il panettone perché era già in bilico all'inizio e invece il panettone... La Roma Duccia! La Roma Duccia! La Roma Duccia! La Roma Duccia! Grazie.